Anni di palizza casco e furto incendio E' arrivata finalmente una grande novità UEN DAGIP L'unico catalogo ti fa seterore Ogni tuo desiderio in ordine per me UEN DAGIP Passa UEN DAGIP Viaggiate coccolati Finalmente siete arrivati Ci mancano solo questi da sistemare E poi stiamo pronte per aprire? Prontissime Allora siamo soci, affare fatto? Affare fatto? Hai la partita IVA? Da oggi c'è team affare fatto Il primo abbonamento per professionisti che azzerà tutti i costi fissi Anche lo scatto alla risposta Paghi solo quello che consumi Niente costi fissi, paghi solo quello che consumi E che io non so abituato, se no mi metterei a lavorare pure io Ecco bravo, aiutaci, una fatica Che pensate di fare? Il bricolage? Il fai da te? Questo è famoso solo noi Almeno un po' d'acqua Ma che sei matto? Sei tutto sudato, te fa male E' ghiacciata Cerchi la 5 porte più economica del mercato? Allora scegli la nuova Chevrolet Max La Citycar Conservo Stelzo Vendi nebbia, doppio erbeg e ABS Tua in aprile a 6.950 euro Anche con mini rate da 70 euro al mese E prima rata a ottobre Sì, brulè Oh seconda che tu me lo fai un sorrisino Un mi va maestro Allora guarda un po' cosa ti ha portato Leonardo Un paio di De Fonseca Le pantofole morbide e leggere che ti piacciono tanto De Fonseca Pin, muta e rugatore 80 euro al mese con Mastercard Un'ora alla settimana Immerso nella tua passione Non ha prezzo Ci sono cose che non si possono comprare Per tutto il resto c'è Mastercard Il credito su misura per tutti i tuoi progetti Nivea ha scoperto il codice della tua bellezza Nasce D&Age Il nuovo sistema antirughe efficace all'origine Che rinnova la tua pelle in ogni cellula Meglio un'auto geniale o un'auto unica? Meglio Toyota Yaris Scegli il piccolo genio Fuori è piccola per parcheggiare ovunque Ma ha la migliore abitabilità e versatilità della categoria Ha motori potenti ma consumi bassissimi E ad aprile puoi avere Toyota Yaris Con un finanziamento con prima rata a settembre Anticipo zero e rate a partire da 150 euro al mese Toyota Yaris Da 10.200 euro Anche sabato 14 e domenica 15 Test scientifici come questi dimostrano Che il gel Gillette Series è meglio della nostra schiuma Raggiunge ogni punto della barba Creando uno strato protettivo Per una maggiore scorrevolezza del rasoio Così avrai una rasatura più confortevole Ti consigliamo di provarlo Gel da barba Gillette Series È il momento Gillette presenta Fusion Nitrogen Questo programma può essere ascoltato dai non vedenti Su Radio 1 in onde medie Più giorni? Sì sì, più giorni Così per un bel po' non torni Granarolo più giorni La bontà che dura più giorni Fiore, la vuoi sentire la nuova promozione Fiat? Fremo Allora Fiat ti offre fino a 4.000 euro per il tuo osato da rottamare Più un super finanziamento con anticipo zero E prima rata a settembre Adesso basta Cosa fai? Voglio fare come Stefano Gabbana Voglio distruggere la macchina No, ferma di Perché qua sotto Lo so Tracce una panda No Lo so La rompi Se a volte il tuo problema è un fastidioso prurito intimo Vagisil Crema calma rapidamente prurito, bruciore, irritazione Vagisil Crema, un intimo sollievo È un medicinale leggere il foglio illustrativo È arrivata finalmente una grande novità Due carte col tuo nome, grandi premi ci darà Si chiama you and a jeep, swing a volontà You and a jeep Passa you and a jeep You and a jeep Viaggiate coccolati Nel mezzo di cammin della mia vita mi ritrovai in una selva oscura Che la pantofola era smarrita Un inferno Ma poi ho scoperto De Fonseca Così morbide, leggere e belle Che torno subito a rivedere le stelle De Fonseca Con il sole le rughe e le macchie si accentuano Nuovo Garnier Ultralift SPF 15 doppia efficacia Uno, il concentrato puro di Ginger distende le rughe mercati di oggi Due, i filtri UV prevengono le rughe e le macchie di domani Garnier Ultralift SPF 15 Prenditi cura di te Garnier Fa che il tuo spazio interiore sia più grande di quello esteriore Chiedi a te stesso il massimo dell'energia La qualità è l'origine di tutte le soddisfazioni Toyota Aulis Le ragioni dell'emozione Scusi, ha qualcosa per il mal di testa? Certo Ah, Moment Lo uso anch'io Oggi ho più male del solito Vuole Moment Act Moment? Art Io ho usato perfino maleditenti Il mal di testa non è sempre uguale Quando si fa sentire di più C'è l'azione analgesica mirata di Moment Act Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati e anche gravi Vedo che il mal di testa è già... In un act Mal di testa Quando lo senti di più c'è Moment Act Da Angelini Cannella Mamma Ciao Oggi ho cucinato Che cosa? Una torta Ma dai Con il fango Lei si diverte a giocare con i compagni E non sta mai ferma E so che le difese naturali dei bambini possono aver bisogno, beh, di un aiuto Per questo al mattino le do Actimel Actimel con L case Immunitas agendo sulla flora intestinale Aiuta a rinforzare le difese naturali Rimforza le tue difese naturali con Actimel E Danone Meglio un'auto geniale o un'auto unica? Meglio Toyota Yaris Scegli il piccolo genio Fuori è piccola per parcheggiare ovunque Ma ha la migliore abitabilità e versatilità della categoria Ha motori potenti ma consumi bassissimi E ad aprile puoi avere Toyota Yaris con un finanziamento con prima rata a settembre Anticipo zero e rate a partire da 150 euro al mese Toyota Yaris da 10.200 euro Anche sabato 14 e domenica 15 Questo momento è il profumo della tenerezza Lo stesso che ti offre nuovo infasil al profumo di talco La protezione infasil è un profumo di talco da amare Nuovo infasil dell'italco, la forza della sensibilità Hai fatto questo problema di matematica? Ma fate la scissione dell'atomo in elementare Domani la maestra mi interroba Tranquilla paperina, che se hai preso da tuo fratello non puoi fare scena muta Ma papà Lo so che telefoni da internet Ma non è quello che telefono agli amici Ma perché con gli amici non si paga? E se hanno Alice no, parlo gratis per sempre Papà Se hai Alice parli gratis con tutti quelli che hanno Alice, per sempre Allora l'atomo Non siete un po' avanti col programma? Vai su alice.it Con Energizer Lithium puoi scattare più di 600 fotografie Con una pila alcalina standard Solo fino a 90 Energizer Lithium La pila stilo che dura più a lungo al mondo Salumi Levoni Quelli buoni Quelli buoni Quelli buoni Salumi Levoni Quelli buoni Pin, muta e rogatore 80 euro al mese Con Mastercard Un'ora alla settimana Immerso nella tua passione Non ha prezzo Ci sono cose che non si possono comprare Per tutto il resto c'è Mastercard Il credito su misura per tutti i tuoi progetti La cerniera non fa più paura Da oggi c'è Sinua Sinua è il nuovo integratore alimentare Che assorbe gli zuccheri e i grassi Sinua, meno grassi, più linea Can you remember the last time you were driving in your car? Did you notice anything special? Maybe you were too busy thinking about your final destination Try taking in more during your journey A bend The silence inside You'll discover that sometimes it's not where you're going that's important But how you get there Roma Un grande viaggio Se hai provato una crociera a Costa È difficile tornare alla vita di tutti i giorni Scopri la promozione ai ragazzi gratis in agenzia Costa Crociere La vacanza che ti manca I raccomandati Una sfida ad eliminazione diretta Siamo pronti? Fra sorprese e grande divertimento Albano e Romita Fino al verdetto finale Espresso dal pubblico a casa Tanti ospiti, tanti protagonisti, tanti raccomandati Molto bravi Carlo Conti vi aspetta con I raccomandati Venerdì alle 21.10 Su Rai 1 Perché la sfida a cui raccomandati continua Se continua Preparatevi Veronica Pivetti Enzo De Caro Paolo Conticini Si parla tanto di famiglia allargata Allargata, Camilla, qua dobbiamo stringere Se no, anche io ho le mie ammiratrici Provaci ancora Prof2 La professoressa più impicciona della TV torna Sono tenuta la larga Però poi la polizia mi ha fatto un sacco di domande Mi sono ritornata dentro È strano perché più volte velovo stare alla larga Non me ne volevo occupare Però... Per la regia di Rossella Izzo Provaci ancora Prof2 Domenica e lunedì Prima serata Rai 1 Le prime due puntate Cominciamo Bene Ah, mi serve giusto una pila Aspetta A me hai provato le pile di caricabili Beghelli Vedi questa lucina verde? Carica 500 È pronta subito E costa più o meno uguale una pila alcalinosa e getti Però si possono ricaricare 500 volte Ma cosa rischi? Provale E risparmia Carica 500 Beghelli Sicuro, eh? Basta! Vedrai Mi ringrazierai 500 volte Carica 500 Beghelli Prova E risparmia La sicurezza Volvo compie 80 anni E ti regala la tecnologia del futuro Festeggia con la nuova Volvo C30 Oggi da 18.500 euro Festeggia con Volvo Sabato 14 e domenica 15 Di Saronno è così unico e sensuale Che vorresti non finisse mai Di Saronno Il gusto che seduce il mondo We are family Francesco Muoviti che c'è anche la roba dei nuovi Scopri quant'è accogliente è la grande famiglia Vodafone Oggi chi passa Vodafone ha un telefono Samsung gratis E per un anno parla con tutti a soli 5 centesimi al minuto Vodafone Life is now Mini Citroen C3 La più furba del mercato 5 stelle e 4 ruote per i motori HD Incredibilmente spaziosa Con l'Ecoformula Citroen C3 5 porte E tua da 8.950 euro E su Xara Picasso Hai fino a 5.000 euro di supervalutazione del tuo usato Anche se vale zero Così il suo comfort e la sua linea Sono tuoi ad un prezzo straordinario Da 12.950 euro con climatizzatore Solo ad aprile Quando la gola è sensibile agli sbalzi di temperatura Tanto un verde puro Versa e gargarizza Ciao bucazzana Eh? Lo smog ti irrita la gola Nebulizza Ciao bucazzana Boccazzana? Ah! Tanto un verde colluttorio e nebulizzatore Hanno un'azione locale che agisce dove serve E lascia in bocca la freschezza Ciao bucazzana Con tanto un verde siamo tutti bucazzana Non solo d'inverno È un medicinale leggere attentamente il foglio illustrativo Da Angelini I tuoi desideri diventano uno yogurt Yomo desiderio Puro yogurt ricco di benefici fermenti Con limone e meringhe Con panna e fragole Con vaniglia e granella di nocciole E con tante altre delizie Per soddisfare ogni giorno la tua gola E in più farti stare bene C'è Yomo desiderio Yomo Il piacere di star bene Muscenic The Perfect Habitat Muscenic 1500 DCI A 15.950 euro E finanziamento a tasso zero Lumos Maximo Questa volta tutto cambierà Harry Potter Sirius Black è fuggito da Azkaban Per dare la caccia a te Dal passato Un'oscura minaccia Metterà a dura prova la tua magia Tu sei in un grave pericolo Ti suggerisco di fare particolare attenzione Signor Potter E Pagina 394 Dovrai farcela da sola Harry Una magica prima visione Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Mercoledì 18 alle 21.10 Rai 1 La tenerezza sensuale del bacio Negli amanti indrosa di Marcia Gallo Esposti in questi giorni a Roma Ci ha suggerito una grande trasmissione sul bacio Dimmi come baci e ti dirò chi sei Abbiamo scomodato via col vento il nostro film d'elezione Come bacia Vladimir Luxuria E come Elisabetta Rardini E come Alba Parietti E come Vittorio Sgardi E come ci si prepara Una bocca da baci Lo vedremo in diretta con un grande chirurgo Che disegnerà le bocche come Boh Dicono che vadano adesso Porta a porta più tardi Arrivano! E' tornato Kinder Merender Metà morbida crema e croccanti palline al cacao Metà missione talpa Le nuove sorprese dell'estate Kinder Merender Sorprende per davvero Fa che il tuo spazio interiore Sia più grande di quello esteriore Chiedi a te stesso Il massimo dell'energia La qualità è l'origine di tutte le soddisfazioni Toyota Avis Le ragioni dell'emozione Da oggi puoi scegliere tu il livello di umidità che preferisci E' arrivato Ururu Sarara Il primo climatizzatore che umidifica, deumidifica, purifica e rinnova l'aria Ururu Sarara da Daikin Il clima per la vita Quando la merenda è cucciolone Guai a chi la tocca Gelato alla stracciatella Con tanto latte fresco Tra due biscotti con gocce di cioccolato Cucciolone Cookie Da Algida Stai cercando il posto giusto per il tuo TFR Piedino regolabile e proteggi dita Retromarcia rapida Scatola di accessori integrata nel piano lavoro Pratica e leggera A soli 88 euro Polo da uomo in puro cotone Tantissimi colori A soli 5 euro e 99 Ci vuole una bella grinta per essere mamme oggi E ci vuole un'idea Fiat Idea Molto volume Molto tosta E oggi idea ti regala il pacchetto benessere stop e relax Mamma perché beviamo LC1 tutti i giorni? Perché contiene un miliardo di fermenti Che arrivano vivi e attivi nell'intestino E rinforzano le difese immunitarie Formando uno scudo naturale contro i batteri cattivi LC1 Protection Rinforza le tue difese Ma posso io parlare per telefono con un pappagallo? Abbiamo pazienza Animali e famiglia Che c'è di c'è? Solito Sono tutta la vita di Gigi Garulli Ma che devo capire? Tu sta sbroccata va Ha detto sta sbroccata a me Fino a quando? Ti inchiodo dottor Garulli Il diavolo non ci mette lo zampino Ma mai sta in galera? Tre omicini Ah ecco Mi giuro che no E allora cambia tutto Ma che sei diavato? C'è ma rovinato Che va bene agli animali Poi gli evade Alla fine è una colpa mia Ma veramente tutto Il veterinario Lunedì alle 21 e 10 Su Rai 1 Gagnotto Champions League La finale Due anni dopo Istanbul Il Milan affronta gli inglesi del Liverpool Nella finale della Champions League In diretta da Atene Milan-Liverpool Mercoledì 20 e 30 Rai 1 Per la splendida serata Terro sempre con me la collana Sperando che un giorno Tornerai a riprenderla Le petit déjeuner Il breakfast a letto Tu mi vizi libero Io sono bravo a preparare Il breakfast Le petit déjeuner Ma non sono bravo A me a mandare i fiori Qualcuno ci ha pensato Prima di me Ma figuriamoci Serravalle mi ha mandato le rose Ma